ciao sono robin wood e sono a santa maria della caglietta a san mateus pochi chilometri da angra d'eroismo sulla costa opposta dell'isola di tercera da dove vivo io sto a nord nel paesino di altars e qui siamo a sud nel paese di san mateus come puoi vedere qua dietro di me c'è questa bellissima chiesetta abbandonata che vengo spesso a trovare perché è un posto tranquillo posto ideale per poter girare qualche video e per darti la possibilità di scoprire un pochettino di più del posto meraviglioso nel quale mi trovo argomento di oggi le notizie ma quelle vere fake news ci sono esistono ma voglia se esistono e ci sono ma la novità secondo me non è che sono esplose le fake news ci sono sempre state nella storia dell'uomo soltanto che per la prima volta ci sono così tante persone che hanno mezzi strumenti per poter andare a verificare controllare scoperchiare e scoprire che un sacco di cose che ci vengono dette anche cose estremamente importanti sulle quali noi non abbiamo mai posto un dubbio da quando siamo nati sono totalmente false costruzioni propaganda balle costruite artificialmente per convincerci di una cosa piuttosto che di un'altra ora che questo sia il caso non è necessario che sia io al dimostrartelo se ti appassioni un pochettino di storia ma non solo di quella degli antichi romani e degli egizi ma anche della storia recente del nostro paese dell'italia del governo della politica degli affari che sono successi negli ultimi 50 anni puoi renderti conto che moltissime informazioni sono state completamente manipolate per servire gli interessi di qualcuno ma il problema dove nasce da chi fa il furbo e ci propina e costruisce a regola d'arte notizie false o a chi come me e te se le beve semplicemente perché vengono pubblicate sulla prima pagina dei giornali più importanti o nei telegiornali che guardiamo con tanto interesse perché per quello che posso vedere io i fessi siamo noi siamo io e te loro sono che ci piacciono quelli che hanno capito come funzionano le cose e che cioè basta modificare un po le statistiche riportare solo una parte dei dati mettere in cattiva luce qualcosa che la gente quando ascolta i media di informazione di massa se lo beve tutto come fosse un'aranciata non lo mette in discussione non va a verificare non controlla le fonti cose che tra l'altro avrebbe dovuto fare il giornalista colui che a monte ha questa nobile responsabilità di aiutarci ad avvicinare di più a scoprire sempre di più la realtà ma poiché in moltissimi casi questo non avviene resta sulle mie e sulle tue spalle la responsabilità di non stare lì come dei pesci in attesa dell'esca a cui andare ad abboccare quindi tu se vuoi essere informato su qualche cosa su qualcuno cosa fai chiedi al primo che trovi lungo la strada e lo so tu mi dici se c'è un'autorità ufficiale là fuori con le stelline il berretto e la scritta stampa o governo che vuoi che io non gli dia retta è proprio qui che siamo cascati nel tranello che abbiamo dato e continuiamo a dare per scontato che le fonti ufficiali l'establishment le autorità ci dicono sempre le cose come stanno che se lo hanno detto loro è così ma non è così non è così e dovremmo averlo capito che non è così è chiaro che non è che sempre sistematicamente queste notizie non sono affidabili se sei abituato a bere così e non analizzare quello che ti stai bevendo e poi dopo ti viene il cancro un tumore con chi te la prendi con chi te la vuoi prendere morale della favola ci sono sì tantissime fonti di informazioni che a seconda del punto di vista che hai possono apparire più o meno estremiste fanatiche radicali totalmente diverse e inaccettabili per il tuo punto di vista ma non è secondo me censurandole ostracizzandole vietandole chiudendole che possiamo capire meglio le cose perché poi se un domani dovesse mai succedere che siano loro quelli che abbiamo ostracizzato quelli che abbiamo censurato a salire al governo al potere ma poi loro faranno la stessa cosa con noi con le tue con le mie notizie quindi io non adotterei mai una politica che quando sono al potere io va bene ma quando sono al potere gli altri è meglio evitarla suggerisco quindi che la molteplicità la estrema diversità di fonti di informazioni che c'è là fuori è da cogliere come una ricchezza ciò che auspicherei possa succedere sul quale io e te possiamo lavorare da subito è nell'allenarci nel condividere aiutare chi è più giovani di noi ad imparare ad essere un investigatore un qualcuno che verifica e controlla le notizie che ci arrivano invece di prenderle automaticamente per buone soltanto perché ci vengono presentate da canali di informazione principali per me più punti di vista ci sono e meglio è ognuno ha il diritto di poter esprimere punti di vista diversi senza inneggiare alla violenza senza pretendere che altri vengano rinchiusi imprigionati o annullati l'obiettivo per me è infatti quello di trovare un mondo che si avvicina di più al dialogo a cercare realmente in maniera condivisa e collaborativa di capirci gli uni con gli altri di scoprire e apprendere le cose che coloro che sono estremamente diversi da me possono farmi apprendere è necessario che io e te ci apriamo un pochettino di più secondo me ad ascoltare realmente e a confrontarci in maniera serena in questo modo possiamo crescere e possiamo mettere uno stop a chi ci continua a prendere per il culo passandoci notizie informazioni leggi della natura che non stanno veramente né in cielo né in terra